...5, quina, con 10! Ehi! ...comprisano la numero 17, svega giallo di... Mi sc Snap! Grinde, numero 3, come assieme, la Monteros! Grinde, numero 6, Chiara, schauele di... 12-16, Caterina Sagerio! Viva, 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 Viva! Viva, Viva! Viva, 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 Viva! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tempo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!